Sono Giovanni Russo, Domenico Barbati, Carlos Solito, Spiridon Russo, Serrida Mamri, i 5 vincitori del premio giornalistico internazionale bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum. I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso di una serata organizzata all'Hotel Mediterraneo e condotta da Massimo Giletti. La giuria preseduta da Folco Quilici ha valutato i lavori ed ha deciso di distribuire in questo modo i 50.000 euro del Monte Premi dopo la riunione alla Fondazione Mediterraneo. Fino a che la comunicazione esiste, resiste e ha portato a, vorrei dire, di tutti, ma soprattutto è così utile anche per l'aria che respiriamo, perché leva tanto traffico dalle strade e alleggerisce quindi tutto il peso che abbiamo di gas sul nostro pianeta benvenga. Il premio si propone di valorizzare i vantaggi delle autostrade del mare che costituiscono una valida alternativa ad altre modalità di trasporto, in particolare quella terrestre. Le autostrade del mare per merci e passeggeri sono inoltre uno straordinario strumento di coesione sociale ed economica per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, come conferma la D del gruppo Grimaldi Emanuele Grimaldi. Abbiamo aperto nuove autostrade del mare, quella da Brindisi per Egumenizio e Patrasso, che è stato un grande successo, abbiamo già superato i 100.000 passeggeri, abbiamo portato anche 20.000 camion, quindi sicuramente è stato un successo. Adesso abbiamo aperto una linea da Ravenna per Brindisi e per Catania, che è una novità. Adesso abbiamo anche ripreso la linea per Tunisi, che avevamo avuto qualche interruzione per qualche problema politico nel passato, quando c'è stata la rivoluzione. E quindi, diciamo, è sicuramente molto importante e naturalmente anche la crescita in un momento di recessione per alcune aziende dovrebbero aiutare l'intero comparto e probabilmente anche lo sviluppo economico del paese. Ma il futuro del premio Mare Nostrum è ancora più ambizioso, come sottolinea il segretario del riconoscimento Luciano Bosso. La finalità è quella di spostare quanto più traffico pesante dalle strade verso il mare, cioè da una modalità inquinante, dove si susseguono anche incidenti, ad una modalità molto più ecologica.